Tradurre immediatamente in azione l'intesa raggiunta a Monaco, lo chiede l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Federica Mogherini, annunciando un incontro con l'inviato speciale dell'ONU in Siria, Staffan de Mistura. Ora il vero test sarà l'implementazione di ciò su cui ci siamo accordati stanotte, ma credo sia positivo che abbiamo raggiunto questo risultato comune, tutti uniti e tutti impegnati. Non ci siamo solo accordati per migliorare la situazione umanitaria, ma perché le prime consegne di aiuti umanitari avvengano questo fine settimana. Speranza ma anche prudenza nelle parole della portavoce dell'opposizione siriana. Noi apprezziamo gli sforzi che i nostri amici stanno facendo per dare sollievo al popolo siriano. Devono essere per tutti i siriani. Dobbiamo vedere i risultati sul campo. Una volta che le azioni verranno implementate saremo pronti per un processo politico. Il futuro dei colloqui di pace passa per Aleppo, la cui situazione era stata definita ieri dall'alto commissario ONU per i diritti umani, Zeid Raad al-Hussein, di massimo allarme. La città è sotto assedio da parte dell'esercito di Bashar al-Assad, appoggiato dall'aviazione russa. Grazie a tutti.